A nome di tutti i sacerdoti di Termini Merese e quindi delle comunità parrocchiali di questa nostra città, io Padre Giorgio, parroco di questa parrocchia Madonna della Consolazione, vorrei fare gli auguri a tutta la città dove noi viviamo ogni giorno, lavoriamo e anche soffriamo e abbiamo speranze. Il primo pensiero va naturalmente a coloro che cercano il lavoro, Gesù, Giuseppe e Maria, ecco sono per noi un modello di lavoro. Giuseppe addestra l'umile arte del falegname, il figlio dell'Altissimo. Auguriamo a questa nostra città di Termini dunque il lavoro, perché ci sia un pane dignitoso nelle case. Poi mi rivolgo a tutti gli ammalati, a coloro che sono soli, perché il Signore dia loro consolazione, forza a quanti assistono e curano gli ammalati. Ai nostri giovani di guardare con un futuro di speranza la loro vita, ai nostri ragazzi che crescono di innamorarsi, scoprire l'amore e di formarsi in una famiglia. Poi anche vogliamo augurare come sacerdoti a coloro che ci governano la cosa pubblica, ecco di interessarsi di questa città, perché le risorse ci sono. Auguriamo dunque a tutti gli imprenditori, a tutti coloro che svolgono un'attività commerciale, veramente di dare sviluppo a questa città. E vorrei terminare con un pensiero di Paolo VI. Il Natale è un Natale di pace. È anche un Natale in cui vengono invitate le persone a scoprire la legge del governare ogni coscienza e ogni comunità, la legge dell'amore. E poi l'energia. Il Natale è anche energia. L'uomo deve compiere la sua impresa, non mai terminata da parte di quella di Dio, di quella civiltà che non soffoca i suoi cittadini e non crolla per la mole e per il peso della sua stessa grandezza. L'energia misteriosa che solo la fede ci può dare. Auguri di Buon Natale alla città di Termini Merese 2015 e Buon Giubileo 2015-2016. Grazie, Dio vi benedica a tutti.